Che va a fare ora Ibrahimovic? Por encima della barrera... Che gol! Ooooooh! Veremo chi partirà. Parte Recomba con sinistra, conclusione a rete! Un gol straordinario, otto minuti e la partita cambia Giabu. Straordinario e questo giocatore ha queste capacità, ha queste... straordinarie, non ci sono altri aggettivi, calciata benissimo di Collinterno sull'incrocio dei pali, Pagliuca non poteva assolutamente farci niente, grandissimo. Questa è diventa e si è arrivato! Che un magnifico giocatore! Non vedrai molti migliori freie giocatori di questo! Juninho E ele chuta forte, o Geraldão Tem que ter cuidado, goleiro Batista Deu um chute violento, Geraldão Vai ele Pro gol Gol Do Cruzeiro Geraldão Uma falta cobrada magistralmente pelo jogador mineiro Eu falei que ele cobrou Aqui vem Payet Oh my word Absolutamente magnífico Wayne Hennessy Não mudou Estou maravilhoso Estou maravilhoso Não mudou No mudou Não mudou A hora Vamos Grazie a tutti! Grazie a tutti!